Nacio, quanto avevamo bisogno di questa giornata per iniziare al meglio la nuova stagione internazionale? Uff, tantissimo, tantissimo. Noi ci abbiamo fissato un obiettivo per questa partita, penso che l'abbiamo raggiunto. Ancora non è che è tutto da festeggiare, abbiamo ancora qualche consiglia da mettere a posto, ma partire così non potevamo chiedere altro. Una giornata perfetta per giocare al rugby, pubblico fantastico, stadio pieno, bel tempo. È un gioco che esprime quello che state mostrando anche nell'allenamento. Sì, sì, al 100%, ci stiamo preparando ovviamente per questo. Ogni singolo allenamento, il tifo ovviamente di tutto lo stadio è stato incredibile, sicuramente è stata una spinta in più per noi, quindi per fortuna siamo riusciti a portare in campo quello che avevamo fatto in settimana. Prima metà della partita, prima metà anche in azzurro, cosa hai provato in quel momento? No, ero felicissimo, infatti mi sono messo a saldare, non sapevo cosa fare. No, no, è stato molto emozionante, diciamo, perché sì, ovviamente dopo il percorso fare la prima metà con quella maleta azzurra è sempre una cosa molto bella. Adesso ci attende l'Australia, è un impegno importantissimo, ancora forse più difficile di quello che può dirlo. Da dove dobbiamo ripartire per rimanere molto concentrati e cercare di ottenere un nuovo risultato importante? No, sicuramente come ho detto all'inizio, riguardare questa partita, oltre i 49 punti, comunque abbiamo fatto delle cose su cui possiamo lavorare e migliorare, quindi ripartire da quella base là e studiare l'Australia e prepararci al meglio possibile.